ehi la ciurma io sono mazzatessa e benvenuti qui in un episodio per discutere del release 0.4.13 di mind test di tutti i cambiamenti che ci sono stati ecco ho creato un un mondo nuovo per farvi vedere in pratica le caratteristiche più interessanti allora innanzitutto se mi ricordo metterò il changelog in descrizione io adesso qua ce l'ho su un'altra finestra quindi mi sono evidenziato le cose più importanti poi voi potete leggerlo tutto in inglese ma come sempre la maggior parte delle features che vengono discusse sono della correzione di bug o comunque questioni di carattere più tecnico specifico che a noi semplici giocatori non interessano particolarmente allora innanzitutto è stata aggiunta la cinematic mode con f8 che può essere abilitata ma non ho capito assolutamente a cosa corrisponde vabbè adesso sto spoilerando un sacco di roba perché mi sono messo proprio in una zona per preparare il video quindi con f8 si può mettere e togliere la cinematic mode ma non so cosa cambia e poi camera smoothing non lo so se il movimento della camera è stato migliorato o cosa ho chiesto un attimo sulla chat ieri ma non c'era nessuno a rispondermi per ora quindi credo che ci aggiorneremo in futuro quando si scoprirò se avete capito invece effettivamente a cosa corrisponde scrivetemelo nei commenti la seconda nota che secondo me è interessante è il fatto che creative mode e enable damage che sono le impostazioni che ci sono all'inizio quando si seleziona nel menu appunto il mondo da giocare vengono ora salvate ogni volta relativamente al mondo cioè non è che se voi avete un mondo in creativa e poi tornate a quello normale dovete di nuovo switchare la creativa e il danno viene salvato solamente per il mondo e non in generale e questa è un'ottima cosa effettivamente proprio per la situazione in cui si ha un mondo in creativa e un mondo in survival così almeno dovete switchare tutte le volte quante volte vi sarà capitato di dimenticarvi la creativa o dimenticarvi la survival e di dover uscire dal mondo e ricaricarlo a me è abbastanza hanno aggiunto il formato hour.minuti che dovrebbe servire per il comando time quindi time6000 si potrà scrivere anche 62.00 si esatto ora si può scrivere anche in quel modo mentre prima era time6000 ottima cosa hanno aggiunto una mod in più in main test base che si chiama security serve appunto per la questione dei server e per il griefing eccetera eccetera per mettere delle zone protette ecco per il ban e vale varie a noi nel single player non interesserà particolarmente ma è comoda per appunto i server ora questa è un'altra feature che in realtà non ho notato particolarmente perché voi sapete che con F7 si può abilitare la modalità terza persona solo che qua dice che ora sono visibili gli oggetti impugnati anche quando si è in terza persona ma io sto impugnando una falce di una zappa di mese ma non si vede in terza persona e non ho idea ma neanche con altri oggetti non succede assolutamente niente quindi non ho idea di che cosa implementi se è un errore mio se è una impostazione che va abilitata nel config non ho idea comunque è una cosa molto interessante per me ma non so come funziona ecco l'altra questione che io dico davvero GG è la minimappa abilità che si può attivare con F9 e con Shift F9 una volta aperta oppure quadrata non orientata in dove si sta guardando ma con l'indicatore della direzione in cui ci stiamo spostando io personalmente preferisco quella quadrata giusto per il fatto che c'è l'indicatore di dove siamo noi mentre nell'altro preferisco vedermi poi premendo ripetutamente F9 si può zoomare aumentando appunto lo zoom di tre volte poi dopo si va in modalità radar cioè sotto la superficie e si vedono appunto anche le gallerie che ci sono nell'area sottostante quindi molto 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 interessante e con F9 si può appunto zoomare poi disabilitare poi riabilitare eccetera eccetera grandissima novità da quanto ne so non c'è la possibilità di vederla a schermo intero che secondo me sarebbe stata molto utile però è sempre meglio di niente allora è stato aggiunto un nuovo tipo di design per le foglie che è il design semplice prima c'erano il default e il fancy adesso c'è il semplice che però mi sono dimenticato di abilitare quindi credo che lo vedremo nei futuri video perché dovrei uscire e riaprire il mondo insomma credo che lo vedremo nel prossimo video di My Intestate prossima invece caratteristica è più che una caratteristica è una questione di cui non avevo saputo assolutamente niente e cioè tempo fa è stato creato un client anche per Android di My Intest proprio ufficiale sviluppato da chi sviluppa My Intest e ci sono stati vari fix di bug per My Intest per Android io l'ho provato ma devo dirvi la verità nonostante abbia anche Minecraft per Android questo tipo di giochi non mi piace proprio per nulla su Android cioè io mi trovo proprio meglio a giocarlo con tastiere e mouse in modo da potermi direzionare bene da poter scavare bene direzionalmente sarà che sono di una generazione un po' vecchia quindi con lo smartphone non è abbastanza in sintonia però ecco non mi ci trovo per niente se qualcuno di voi è interessato naturalmente si può trovare gratis sul Play Store e potete provarlo nella sezione Map Gen hanno aggiunto nella 3 Gen due nuovi alberi uno è l'albero di Pino che è questo qua appunto di cui possiamo vedere anche i sapling qua nell'inventario naturalmente sono in creative questo è il sapling dell'albero di Pino queste sono le foglie dell'albero di Pino questo è il legno e questo qua è il legno lavorato tra l'altro questo può essere molto interessante per la costruzione di edifici differenti con tonalità di alberi differenti soprattutto con mind test base senza dover raggiungere la mortuary che io ho nel mio mondo ora non credo che andrò a disabilitare la mortuary nel mio mondo solo per il fatto che mi ritroverei con metamappa di unknown block e non ho intenzione di ripartire per ora da capo cos'è che volevo dire il secondo albero che è stato aggiunto è la caccia questa qua che appunto è molto simile alla caccia che c'è in Minecraft come il Pino è molto simile all'alpino che c'è in Minecraft e il cui sapling è qua e il legno è di una tonalità abbastanza rossastra mentre appunto quello del Pino è di una tonalità chiara come abbiamo potuto vedere come potrebbe essere quello della betulla invece in Minecraft e vabbè il Jungle Tree esisteva già prima e ci dà una tonalità di legno un po' più scura potrebbe essermi assolutamente utile per ma intestita la costruzione della nave visto che potrebbe risultare più interessante quello che apprezzo tantissimo dell'albero di Pino rispetto ai pini della Maltree è il fatto che è dritto è completamente dritto quindi non c'è da fare come nelle sequoie o nei pini della Maltree cercare i pezzi di legno che rimangono nascosti tra le foglie la caccia è un pochettino più complicata da tagliare però credo che con una motosega non dovrebbe dare problemi anche perché ha comunque una costruzione abbastanza cioè una struttura abbastanza regolare naturalmente questa non è sponata qua i pini si trovano qua nella taiga ma la caccia l'ho piantata io naturalmente altra novità appunto è che con la MapGen versione 6 quindi se voi create un nuovo mondo con la MapGen 6 mg v6 in codice ci saranno anche ci sarà anche la possibilità degli snow biomes che dal config sono di base abilitati con la versione 6 quindi se create un nuovo mondo con la MapGen versione 6 potete trovare anche i biomi nevosi ora cos'è che volevo dire i biomi nevosi appunto sono caratterizzati dalla presenza di neve to guarda che ricopre tutto mi aspetto l'audio tra l'altro noto adesso perché hanno aggiunto anche il suono del camminare sulla neve ma non lo sento qua comunque qua ci sono arrivato adesso non trovo più da dove ero arrivato per forse di là ma vabbè comunque si trovano questi biomi nevosi che sono caratterizzati dalla presenza di questi blocchi che sono blocchi di neve snow block i quali se messi nella tabella di crafting scraftati danno 9 palle di neve che per mia tristezza non sono lanciabili come in minecraft ma possono essere piazzate per creare questo piccolo slab diciamo di neve due slab di neve non fanno un blocco di neve e c'è abbastanza anche plausibile per il fatto che appunto da uno ne vengono nove da due non ne possono dire uno cos'è cosa voglio dire hanno aggiunto anche umidità e calore nella configurazione del map gen ma non ho capito bene a cosa servono credo che quello lo scopriremo pian piano per il fatto che no in realtà non lo scopriremo perché nel mio mondo non ho la map gen versione 6 e non ho appunto i biomi nevosi quindi e non li avrò fin tanto che non creerò un altro mondo per questo anzi vi chiedo se qualcuno di voi fosse interessato che cambiassimo mondo potremmo anche prenderlo in considerazione detto questo cos'è che volevo dire probabilmente serviranno per far sì che la neve si sciolga se per esempio siamo in un bioma normale o in una giungla ecco non ne ho assolutamente idea e boh tra l'altro ho piezzato la caccia qua anche per vedere se il calore e l'umidità influenzassero questo ma è cresciuta quindi boh non lo so non credo che influiscano sull'acacia almeno ok i pini nei biomi di taiga possono spawnare anche sugli snowblocks mentre gli altri alberi non dovrebbero sono aggiunti sono stati aggiunti dei parametri per i i minerali in base ai biomi cioè ci sarà una densità differente in base al bioma di determinati minerali non so come sono distribuiti però c'è l'opzione e non so se già è stata modificata potrebbe essere semplicemente che c'è la possibilità per i modder di creare magari dei nuovi dei nuovi biomi e rendere in questi biomi più o meno facile trovare tale minerale non lo so questo può essere molto interessante per alcuni tipi di mappe penso non lo so come la clay si può trovare soltanto sott'acqua vicino alla sabbia vicino alla superficie e quindi non molto profondo si potrebbe creare una pozione simile per altri tipi di minerali magari in un modo verosimile ecco perché sappiamo che non tutti i minerali possono essere trovati in tutte le zone in real life adesso hanno aggiunto del map gen 5 alla map gen 7 un controllo diciamo che ricalcola il bioma quando si si trova sott'acqua questo probabilmente per evitare che ci siano dei blocchi di neve sott'acqua adesso dobbiamo rimettere time 6000 per tornare di giorno suppongo che sia per la questione appunto di non trovarsi con dei blocchi di neve sott'acqua o similia ecco insomma se hai un un bioma tale bioma deve essere calcolato fuori dall'acqua ecco infatti sott'acqua c'è la derto normale come un qualsiasi luogo della mappa ecco ho notato anche che nella mappa cioè no nell'inventario è stato aggiunto il blocco d'acqua water source river questo è più chiaro del water source normale e non so se ci sarà una differenza di colore dell'acqua tra il river e il mare questo credo che sia considerato come laghetto quindi non come river ma credo che ci sarà un bioma dove si potrà trovare quell'altro blocco d'acqua questo qua river water source questo non è scritto nei nel changelog ma l'ho notato ultima cosa interessante che è scritto nel changelog è il fatto che hanno iniziato ad aggiungere il supporto per utf8 cosa vuol dire vuol dire unicode quindi vuol dire che mentre prima da quanto mi ricordo non era possibile mettere ad esempio lettere accentate adesso dovrebbe essere possibile ma oltre a lettere accentate anche dei caratteri particolari relativi alle varie lingue per esempio non lo so la cicola sediglia francese eccetera eccetera questo mi pare che non fosse presente prima o comunque non dappertutto altra cosa che non ho trovato nel changelog ma ho trovato è sono questi due esserini cioè il fungo marrone e il fungo rosso che appunto possiamo vabbè sono alternati questo è il marrone e questo è il rosso che sono come in minecraft e che possono dare delle spore se scraftati da quanto ne so no 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 se scraftati come danno delle spore forse se lo scavi no no non lo so comunque possono dare delle spore non ho capito bene come anche perché non sono inseriti nel changelog ma non l'ho visto neanche nei changelog passati me li sarò persi per strada e possono essere piantati e dovrebbero crescere ma non ho capito se crescono in base all'umidità che è presente ma non crescono in tutti i biomi e questo potrebbe spiegare perché umidità e temperatura sono state aggiunte e ci sono varie varie correzioni varie precisazioni riguardo a temperatura e calore temperatura e umidità dentro il changelog quindi è probabile che sia una questione relativa ai funghi che questi sono rimasti qua per un po' di tempo su un blocco di dirt e non sono cresciuti non so magari crescono sulla stone come no non credo su minecraft crescono sulla stone no crescono vicini no crescono anche sulla stone credo ma non vanno piantati sulla stone per esempio credo tra l'altro cosa carina è che qua la dirt non è normale cioè questa qua voi dite dirt coperta con neve no è proprio dirt nevosa cioè non è che ha un piccolo strato di neve sopra come in minecraft è proprio dirt con neve e non so se ha un nuovo blocco qua nella suppongo di si si eccolo qua dirt with snow c'è dirt with dry grass uh che questa non ricordo di aver visto probabilmente sarà nei deserti non ho idea o dove ci sono le acace non lo so non so se c'è un nuovo bioma perché adesso che ci penso neanche le acace vengono dette nel changelog e quindi può darsi che ci sia un altro bioma che ci siamo persi non ne ho idea qua ci sarà da esplorare un po' e vedere un po' come è la situazione le cose principali sono state dette acqua e tutto in pietra forse perché ah ecco qua torniamo invece al bioma normale bioma pianura diciamo tra virgolette ah ecco sono curioso spero se indica il bioma su un F5 no però indica la direzione in cui stiamo guardando ovest nord est sud oh ottimo questa è una cosa che non mi ricordavo di aver visto tempo fa però non dice il il bioma la cosa c'è un dungeon ah tra l'altro ho letto hanno anche fissato delle cose per i dungeon in no in superficie in aria perché capitavano ogni tanto dei bug ah ecco qua abbiamo trovato un fungo quindi suppongo che qua possano crescere boh provo a piazzare delle spore non so ma tanto non so neanche se ci torneremo di qua qua c'è un deserto ma non c'è della dirt with dry grass qua c'è un un mare il cui colore dell'acqua mi sembra uguale all'acqua che abbiamo visto prima chissà chissà beh comunque io vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi è piaciuto iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e assolutamente mi piacerebbe sapere nei commenti qual è la feature che vi piace di più di questo changelog di questa versione mindtest 0.4.13 che ricordo è uscita il 20 agosto noi ne parliamo praticamente il 20 ottobre due mesi dopo ma l'importante è parlarne ecco meglio tardi che mai dicevano qual è la feature che vi è piaciuta di più qual è l'aggiunta che vi aspettavate di più o che vi ha colpito di più io personalmente credo che sia quella del del bioma nevoso e degli nuovi alberi credo che sia una cosa davvero ah no la minimap non lo so bioma nevoso e alberi oppure la minimap no credo bioma nevoso e alberi si si siamo vissuti una vita senza minimap ma credo che saremmo sopravvissuti lo stesso anche senza e e buon però parliamone come dice il carissimo repets hashtag parliamone ciao a tutti dimenticavo una cosa a parte che ho trovato anche dei funghetti rossi la questione è che i funghi rossi naturalmente essendo ammonite muscarie o falloidi no ammonite muscarie mi pare che sia quella rossa sono velenosi mentre quelli marroni sono commestibili e quindi possono essere consumati ecco proviamo a mangiare uno ma credo che non ci faccia niente perché siamo ah li ha mangiati però non è successo niente naturalmente perché siamo in creativa e quindi non è cambiato niente però ecco mangiare quello marrone fa recuperare vita o fame in base a come è la configurazione della nostra mod il mondo solitamente ma in test vanilla vita se avete la mod della fame fame mentre l'altro vi fa perdere vita niente ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.